Il Macellum Il Macellum è il mercato della città. L'ingresso principale si apre sul lato del foro e al centro presenta un vestibolo accessibile da due porte dove è visibile uno zoccolo rivestito di marmi. Al mercato si trova il miglior dettaglio di vendita di carne ma anche di pesce. Nell'edificio ci sono anche i depositi pieni di anfore che contengono il vino e l'olio.